È una vecchia questione economica all'origine del tragico episodio avvenuto a Trissino, a ovest di Vicenza, dove un uomo conosciuto nel mondo dell'oreficeria berica ha ucciso un giovane, il 39enne Enrico Fagion, prima di togliersi la vita. Si tratta del 61enne Giancarlo Rigon, con cui il padre del Fagion aveva contratto un vecchio debito mai saldato. Il figlio, che pure aveva lavorato nell'ambito dell'oreficeria, mentre ora era dipendente di un'azienda specializzata in nastri trasportatori, avrebbe dovuto sposarsi entro 15 giorni con la donna con cui conviveva a San Martino Buonalbergo, alle porte di Verona. Le colpe dei padri sono tragicamente ricadute sui figli. Rigona ha esploso cinque colpi a bruciapelo, al termine di un vivacissimo alterco, in cui probabilmente l'uomo più anziano voleva chiudere i conti verso il Fagion, dopo averlo bloccato per la strada con l'auto. All'episodio avvenuto verso le 13 di venerdì 27, in un quartiere residenziale hanno assistito molte persone, grazie alla cui collaborazione i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'omicida, ma non prima che questi rivolgesse l'arma verso di sé dopo essersi dato alla fuga una volta commesso il crimine. Un vecchio rancore che ha generato soltanto morte. Il potere dei soldi è stato ancora una volta più forte del potere della vita. Grazie. 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 Grazie.